Buongiorno, da Peppe Channel, on the beach da Procida, ecco l'indolinello di stamattina Ciao come ti chiami? Alessandra Alessandra, da dove vieni? Procida Allora, Alessandra, l'indolinello di oggi è questo Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere Cosa? Cos'è? Lo sa, quindi è un nome al maschile, non lo so, ha pensato la bara E' un maschile, è un maschile, scusa l'indolinello di stamattina è questo Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere, cosa è? Che sarà? È un frigorifero Ok scusa, lo possiamo uscire Come ti chiami? Michele, ciao Da dove vieni? Da Pomigliano d'Arco Ah sì, finalmente uno, che non è di Procida L'indolinello di stamattina è questo Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere, cosa? Eh, sarà il mio pantalone E da Peppe Channel, on the beach da Procida, è tutto Linea allo studio, Antonio Manganillo con il pipistrello Oh mamma mia, ti chiami da Luca